L'associazione Noi di Via Cavallotti ha organizzato nei giorni scorsi un incontro informale in Piazzetta Freschi per il tradizionale brindisi delle festività natalizie e lo scambio degli auguri alla giunta comunale di Pordenone oltre al personale del magazzino comunale che solitamente collabora per la realizzazione di molti eventi quale il Carnevale, il Natale in città, Estate in città. Era presente all'incontro anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Come ogni anno un bel momento d'incontro tra l'associazione dei commercianti di Via Cavallotti che voi sapete è particolarmente attiva in questa parte della città e l'amministrazione comunale. Sono le cose che piacciono perché è un segno di quanto alla fine lavoriamo tutti insieme per lo stesso obiettivo che è fare in modo che in città si stia bene e durante l'estate o durante l'inverno o durante l'autunno alla fine si possa condividere qualcosa. Approfittiamo per fare gli auguri a tutti ancora una volta, facciamo gli auguri anche a chi ci sta riprendendo che fa parte proprio di questo spirito della squadra del lavorare insieme e come poi vedrete la partecipazione della gente è la miglior testimonianza di come tutti insieme siamo a Pordenone e lavoriamo per Pordenone. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!